L'omertà non è un'attitudine cristiana, lo grida con un megafono a un giovane prete figlio del Salento che ha il pallino della redenzione delle anime nella Domenica delle Tentazioni. Proviamo a scoprire chi è. È venuto a trovarci questo pomeriggio Don Antonio Caluccia, non alzarti, abbiamo detto prima, non ti preoccupare. Benvenuto e buona domenica e grazie del tempo che ci devi. Don Antonio, la domenica ho detto delle tre tentazioni del Vangelo. Quella di uscire a volte troppo allo scoperto può essere anche una tentazione pericolosa. Per chi ti conosce, tu sei quel prete che non ha paura di dire che il Vangelo vince anche sulla paura, sulle cose brutte della vita. Il Vangelo innanzitutto umanizza, ecco perché vince. Perché umanizza la persona, soprattutto dona coraggio alla persona che riceve questo Vangelo e ridona vita nuova. Perché se uno è disponibile all'annuncio di questo Vangelo vuol dire che c'è un cambiamento di vita all'ascolto di questa parola. Senti Don Antonio, prima di arrivare a quello che tu oggi riesci a fare grazie all'aiuto del Pareterno, diciamocela chiaro, vorrei fare un salto indietro nella tua vita. Noi vediamo un giovane prete che è stato molto scapestrato da piccolino, è vero? Un po' turbolento lo possiamo dire. Come tutti i ragazzi, oggi li chiamano borderline, in quel tempo forse non li chiamavano così, erano forse iperattivi, come dire. Ragazzi figli della propria terra, ragazzi che hanno a cuore un territorio e che vengono formati secondo il valore della famiglia e soprattutto anche dei valori del sacrificio. Uno che aveva già una strada segnata, lavorava in un calzaturificio, eri diventato anche sindacalista, coluccio a scoccia si diceva di te, è vero? Sì, sì. Questa cosa già ce l'avevi abbastanza spiccata. Com'è che poi a un certo punto si innamora di Gesù Cristo? Va bene, io ero presidente della protezione civile di un gruppo di volontari e quando ho fatto una missione in Albania, proprio lì diciamo è successo. Quella è stata un po' la terra vocazionale che mi ha risvegliato secondo me qualcosa che c'era già dentro. Perché venivo da un'esperienza anche da sin da piccolo, dopo la quinta elementare ho fatto una piccola esperienza come apostolino e non una famiglia religiosa dei vincenziani. Però non avevi trovato il motivo giusto per essere? No, forse non era il momento. Ognuno di noi ha il suo tempo e per me è arrivato quel tempo. E quindi andando in Albania, come dire, ho incontrato un sacerdote che era la metà di me, che si chiamava, credo, padre Giovanni. Questo missionario lì che gestiva il campo della missione della Chiesa Cattolica. E noi siamo andati lì e li abbiamo portati un po' vestiari o vivere un po' di cose. E quando ho visto questo missionario con tanti bambini, insomma, sono rimasto e ho detto no, che bella. Cioè la positività, c'era qualcosa di particolare che magari mi ha segnato. E questo sacerdote poi mi diede una pacca sulle spalle, dice Dio ti sta chiamando. Io mi giro e dico forse ti sta chiamando qualcun altro perché io ero già ancora fidanzato, no? Quindi come dire... Avevi altri sogni, altri progetti. Sì, sì, sì. Invece poi, ecco, quella provocazione, da lì, come dire, sono ritornato da questo viaggio carico di umanità perché Albania, insomma, me la porto anche nel cuore. Ma soprattutto poi anche un po' in crisi, no? Che devo fare della mia vita? Che sarà? E quindi, ecco, poi mi sono introdotto in un cammino di discernimento vocazionale. Sono stato seguito da un sacerdote che mi conosce sin da quando ero piccolo. E quindi, quando sono andato da lui, mi ricordo, andai subito perché quando hai una bella notizia, no? Come tutti la vogliamo subito, c'è uno tsunami dentro, no? E quindi per forza devi comunicare con qualcuno, magari di tua conoscenza, che tu stimi, che li vuoi bene, che soprattutto lui ti può comprendere. E quindi così, andai da Dorosario e dici, guarda, io non so che mi sta succedendo, ma insomma, c'è qualcosa più forte dentro di me. E lui dice, benedice il Signore, mettiti in cammino, con calma, dice. Senza affrettare nulla. Senti, Don Antonio, una ragazza che ti aspettava, papà e mamma, a cui hai dato un po' di filo da torcere, diciamocelo chiaro, perché eri un po' discolo. Come prendono questa notizia? Che cosa è per loro uno tsunami lo stesso come è stato per te? Beh, io sono di origine salentino, comunque per un genitore... Specchia? Di specchia, sì. Per la mia comunità, ma anche per mio padre e mia madre, sono figlio unico maschio, sono una sorella e un'altra deceduta, quindi immagino che i genitori volevano il figlio sposato, con i figli, così. E mi ricordo quando ho comunicato anche a mio padre, all'inizio che volevo diventare sacerdote, all'inizio mio padre, anche attento è nato, mia madre, anche un po' di meno, ma perché dice, ma basta, io quando torno dal lavoro non voglio parlare di queste cose. Sino a quando poi non è venuto anche un missionario in famiglia, che poi ha parlato, insomma, e poi mi ricordo che mio padre disse, va bene, se lui è deciso, anche se non sono d'accordo, va bene, rispetto dice la sua scelta. E così è iniziato poi questo cammino di discernimento vocazionale che poi mi ha portato poi... Don Antonio, tu ci hai messo anche un po' di tempo per trovare poi la famiglia giusta per te. Sì, sì. La scelta poi dei vocazionisti, che cosa ti ha dato in più rispetto alle altre comunità, alle altre ispirazioni religiose che hai trovato a fomentare? Allora, la famiglia dei vocazionisti, soprattutto di, io lo chiamo Don Giustino, ma è San Giustino Maria Rossolillo, per me è sempre il Don Giustino, perché è immediato. Quindi, e soprattutto la sua vita, questo sacerdote santo di pianura, di una realtà molto semplice e particolare anche, no? Nel napoletano, tra l'altro, è proprio a Napoli. Sì, sì, un quartiere anche molto interessante sotto tutti i punti di vista. Vedere questo santo parroco di pianura che invece accoglieva tutti questi ragazzi che dimostravano segni vocazionali. In quel tempo che non era facile diventare sacerdote, perché in quel tempo bisogna avere lo sponsor per poter entrare in seminario. Costava anche, perché giustamente c'era chi pagasse gli studi. Sì, e vedere invece Don Giustino, la sua particolarità qual è stata, quella di fondare proprio il vocazionale, di dare la possibilità a tutti. Se Dio ti ha chiamato, ecco, io ti voglio accompagnare. Allora, quello mi ha colpito, soprattutto perché si riferiva ai figli del popolo, a coloro che magari, tra virgolette, non contano niente agli occhi degli uomini, ma contano agli occhi di Dio. E guarda, si è arrivato a un punto importante. Chi conosce Don Antonio Coluccia sa che frequenta delle zone complicate, delle zone difficili. Io ho detto all'inizio, un prete con il pallino della redenzione, riuscire a immaginare che dietro, vite allo sbando, ci sia sempre qualcuno che abbia quella luce da tirar fuori. Sì. È una sfida quella, Don Antonio. È una sfida, ma lo diceva anche il mio fondatore, Don Giustino, lo diceva, credo e vedo in ogni animo un santo, anche sotto la scorsa del male, stimo e vedo il possibile santo futuro. Come fai a vederlo negli spacciatori? Come fai a vederlo in quelli che ti vorrebbero morta? Allora, molto spesso, anche in questi quartieri di periferia, non soltanto della capitale, ma anche di altre zone d'Italia, sono quartieri che spesso si sono creati dei vuoti istituzionali. E in questi quartieri c'è povertà e degrado. E laddove c'è povertà e degrado, evidentemente manca poi un annuncio di vita nuova, che deve essere quello di abitare la vita di queste persone. Dare la possibilità. Queste persone che noi troviamo in queste piazze di spaccio non sempre hanno scelto di essere vedette spacciatori. Molto spesso sono, tra virgolette, costretti. C'è una non scelta in queste persone. Ecco perché mi concentro in questi territori. Soprattutto portando il Vangelo, perché il Vangelo deve umanizzare. Come sacerdote io incontro questi ragazzi. Qual è la differenza tra un buon samaritano laico che si mette in testa appunto di ridimere questa società e un prete come te? Me lo dici? Beh, credo che tutti e due fanno una cosa grande. Può cambiare un po' il senso. Per me la redenzione è in nome di Gesù Cristo. Io dico a te, alzati e cammina. Io dico a te, cambia vita. In questo Gesù Cristo che non è parlato, ma l'ho sperimentato. In questo Gesù Cristo che dice vieni e vedi. Quindi fanno esperienza di Cristo, no? Insomma, la quaresima è proprio questa, no? Fare esperienza di Cristo e cercare di estirpare tutto quello che è il male che c'è nella propria vita. Sapendo che c'è una luce che Gesù Cristo è una luce non a intermittenza, ma una luce fissa che ti accompagna per la tua vita. Allora, questo abbandono a questi ragazzi va annunciato anche. È chiaro che molto spesso, come dire, la droga è l'eucaristia di Satana. Io dico sempre... L'eucaristia di Satana. Io dico sempre che l'eucaristia è potenza di Dio che tu ricevi, no? Quando io dico il corpo di Cristo, no? È quella potenza di Dio che tu riceverai dentro di te. E quindi è di colore bianco. Attenzione, l'eucaristia di Satana è di colore bianco. Soltanto che una è potenza di Dio e ti libera. L'altra, invece, ti rende schiavo. Vedete, Papa Francesco, in un messaggio, credo, del 2017, no? Ha fatto un bellissimo messaggio, ha fatto un passaggio anche sui ragazzi, no? I ragazzi non affogatevi alla droga, no? Non perdetevi in facili lusinghe, no? La droga vi annulla, la droga non vi dà nulla di buono. Io non ho mai visto nella mia vita, e ho girato da tantissimi anni, un drogato felice, mai. Quando hai incontrato Papa Francesco, io ringrazio la regia perché ci è subito venuta incontro, con il Cardinal Ballini. Sì. Che cosa, quel sorriso incredibile che hai mentre lo stai guardando occhi negli occhi. Che cosa ti ha detto, Papa Francesco? Allora, il Cardinal mi aveva presentato per l'attività che facevo sulla città, e lui mi ha detto di continuare, di andare avanti. Per me è stata un'emozione, perché comunque anche tutto il suo messaggio, nel suo pontificato di questa chiesa uscita, no? Di questa chiesa che è chiamata soprattutto ad abitare anche i territori, e i territori anche quelli di periferia diventano un luogo teologico dove annunciare Cristo risorto. E allora, crederci nella risurrezione, bisogna avere fede. Ma credici poi, uno ci deve credere realmente anche nella persona che incontra chi è assoggettata al male. Senti, Don Antonio, la risurrezione, questa certezza della risurrezione che ti porti addosso, è più forte della paura perché, voi non lo sapete, ma qui fuori c'è la scorta di Don Antonio. Don Antonio in questi anni di girovagare tra le periferie con questo crocifisso in mano, con il megafono, ha subito e subisce ancora diverse minacce. Sì. Questa risurrezione in cui credi è più forte della paura. Sì, è molto più forte. Ma in fondo, guarda, io mi devo conformare a Cristo come tutti quanti noi. Quindi, come dire, Gesù Cristo che cosa ha fatto? Gesù Cristo è andato nella Galilea delle Genti, ha attraversato i villaggi, i territori e, come dire, anche lui ha rischiato di essere ucciso, quindi gli hanno voluto tanto male. Insomma, voglio dire, nulla di nuovo sotto questo cielo. Quindi, lo sappiamo benissimo, in alcuni territori, laddove ci sono le organizzazioni criminali, ripeto, come Drangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, voglio dire, sono tutte famiglie che rappresentano la negazione del Vangelo di Gesù Cristo. Il Papa li ha scomunicati, finalmente, ed è importante questo, no? È importante che anche alle persone, noi dobbiamo parlare in nome del Vangelo e dire il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Don Antonio, gli spacciatori di morte, che cosa se ne importano di una scomunica? Me lo spieghi. Guarda, forse non li tocca in questo momento, ma ricordiamo sempre che anche uno spacciatore è sempre una persona, che in uno spacciatore, come in un malavitoso, esiste anche la coscienza. Attenzione, la coscienza è l'ultimo testimone scomodo, anche se pubblicamente appaiono come dei bulli, infatti io li chiamo così in fondo, sono dei bulli, ma i bulli generalmente fanno i bulli perché accendono una piccola luce che forse hanno bisogno di essere ascoltati. E allora molto spesso, in alcune realtà, e anche in alcune, io sono stato in Rione Traiano, ho visitato anche alcune realtà anche di Napoli, la stessa pianura, molto spesso in queste persone è mancata la scelta, è mancata la proposta. Molto spesso il crimine si sono lasciati affascinare dal crimine. Perché? Perché il crimine è immediato. Il crimine interviene subito, in famiglia ci sono problemi di soldi? Intervengono loro. Voi immaginate che in alcune realtà fare la vedetta, fare lo spacciatore, significa guadagnare per un turno di otto ore H24, dalle 100 alle 150 euro al giorno. E il welfare della droga, come il racket delle case occupate, e come l'usura, è ancora che diventa tutto un sistema. E quindi quando le persone hanno bisogno di organizzazioni criminali, si sono sostituite allo Stato, ecco perché è importante arrivare in quei territori. Io dico sempre, tra Vangelo e Costituzione, siamo cittadini ma siamo anche battezzati, siamo credenti, speriamo credibili. Quindi, appunto perché poi, quando vedi il male, quando vedi che le persone vengono assoggettate, quando le persone vengono maltrattate, insomma, Gesù Cristo come pastore, è un pastore che inizia con la lettera P, come posizione. Quindi Gesù Cristo ha preso posizione. Gesù Cristo ha abitato, Gesù Cristo ha annunciato. Ricordo che nel Tempio Gesù Cristo, quando stavano commercializzando tutto quello che era il suo messaggio, ha sbaracato baracche e baracchini. Quindi voglio dire, Gesù Cristo non è il Gesù, con tutto rispetto, non è una cioccolata da poter assaggiare quando è come mi piace, ma come dire, Gesù Cristo è impegnativo. Andrà alla sua sequela, è impegnativo. Satana che cosa ti propone? Satana ti propone il potere deviato. Satana che cosa ti propone? Ti propone che tu sei il migliore, che gli altri non contano niente. Satana rappresenta le strutture di peccato. È una struttura di peccato che ruba la speranza, che spoglia della dignità alla gente. È questo. Allora ecco, un battezzato, come si dovrebbe comportare in tutto questo? Deve abitare il proprio territorio e deve prendere posizione. Non possiamo avere paura. Cioè, la paura non è, adesso mi spiego, è un sentimento umano, può essere comune, ma un battezzato ha uno strumento che è potenza di Dio, che si chiama Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo di Gesù Cristo ti dà quel coraggio di affrontare, anche perché, e l'abbiamo anche detto, ho ascoltato anche all'inizio l'apertura della tua trasmissione, quando dicevi l'ommertà non è un'attitudine cristiana. Quel documento non l'ho scritto io. Quindi, Ducarla la legalità è stato scritto dalla conferenza episcopale. Ti piace ripeterlo. E quindi lo voglio ripetere perché? Perché è un'attitudine del battezzato. Non esistono i preti antimafia. Voglio dire anche questo. Perché tutti sono antimafia. È il battezzato che è antimafia. Senti, Don Antonio, ma in questa chiesa, che hai provato a volte anche a tirarti le orecchie quando provavi, o meglio, quando per il mondo eri troppo esposto, lo possiamo dire, anche la tua scelta di mostrarti attraverso Telepace, attraverso Lefattore 2, attraverso tante trasmissioni e anche tante emittenti, eccetera, che ha provato a dirti ok, fai il prete. Tu cosa rispondi? No, devo dire la verità, a me non mi hanno mai detto qualcosa, anzi, devo dire... Qualcuno ti ha chiamato disturbatore, però. Beh, forse, ma è normale che sia, no? Come dire, è forse meglio mettersi le patate sugli occhi e non vedere i problemi che ci sono in alcuni territori, no? È più facile così, no? Beh, se io devo dire, attenzione, non voglio essere ipocrita, ma in un momento in cui io arrivo a San Basilio, no? E c'è una situazione delicata... San Basilio lo ricordo, un quartiere romano. Di Roma, sì, della periferia, sì, nord-est di Roma, e c'è un ragazzo in una situazione particolare. E lì non posso dire soltanto che Gesù ti ama. Perché quel volto, quella storia, deve essere abitata in quel momento da me. E che cosa fai? Come ti approcci a lui? Come mi approccio? Ho cercato di fare una proposta diversa e quindi di prendere posizione e di allontanare subito il ragazzo. Fare questo significa rischiare, ma non c'è annunzio senza rischio. Io non so chi dice che il Vangelo non è un rischio. Io non riesco a capire. Allora, secondo me, il Vangelo non è stato mai comodo. È stato l'annuncio del Vangelo. È scomodo. È scomodo. Perché annunciare il Vangelo significa poi vivere anche in un certo modo. Io, sino a prova contraria, quando qualcuno mi ha chiamato disturbatore, ho detto, guarda che io mi ritiro e mi ritiro non bene confiscato la mafia, una piccola dove dormo io con dei ragazzi di strada. Attenzione, io non parlo dei giovani, non faccio convegni sui giovani. Vivo i giovani. È diversa la prospettiva e la metodologia. Per cui, quelli che io incontro lì, sono quelli che ho tolto e che mi sono portati via, sono quelli che stanno vivendo e come tutti i giovani rappresentano le ansie, la bellezza è come dire, e anche con i loro turbamenti e che comunque li devi ascoltare, è come nelle famiglie, è come in una famiglia. D'altronde, Don Antonio, tu sei figlio della terra di Don Tonino Bello. Ecco. È il Vangelo scomodo a parlare. Ascoltino gli umili e si ralleghino. Fermiamoci solo un istante, ce ne andiamo in pubblicità e poi torniamo qui. Ave Maria, piena di grazie al Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. A finalmente domenica, questo pomeriggio, Don Antonio Ocoluccia, per chi è avvezzo a guardare spesso la televisione, è quel prete che noi vediamo girare nella periferia romana, soprattutto di notte, con un megafono. Giusto per ricordare che l'omertà non si addice al cristiano. Figlio della terra di Don Tonino Bello, noi ci siamo lasciati con questa immagine. Quando tu ad Alessano vai a trovare la tomba di Don Tonino Bello, che cosa gli chiedi Don Antonio? Beh, chiedo di accompagnarmi come sacerdote, di avere anche come dire, la sua protezione, ma anche perché ricordo che Don Tonino Bello è stato un testimone, cioè quello che dice lo ha fatto, aprire il suo episcopio alle donne di facile costume è stato in quel tempo profetico, immaginate, prendere posizione come un tema attuale anche oggi contro la guerra, no? In nome della pace, credo che un uomo di Dio che ha preso posizione è come tutti quelli che prendono posizione poi dopo vengono anche possono piacere e possono non piacere. A te non importa nulla di piacere o non piacere? No, perché io insomma mi devo preoccupare del giudizio non degli uomini ma di Dio. Però se un prete in quanto tale si è portato all'obbedienza, si è tenuto all'obbedienza. No, c'è un voto di obbedienza che è diverso. Fammi la differenza. Non sono tenuto o il voto di obbedienza. Allora, il voto di obbedienza e soprattutto obbedire vuol dire ascoltare. Innanzitutto obbedisco a quelle che sono le costituzioni della mia famiglia, la regola di vita che ho scelto di vivere e soprattutto l'obbedienza anche al Vangelo, al Vangelo di Gesù Cristo. Insomma, ecco. Cosa se ne fanno del Vangelo i tuoi ragazzi, quelli a cui ha aperto questo bene confiscato alla mala che gestisci a Roma con la tua associazione Don Giustino Ollus? Sì. Soltanto proprio l'altro ieri, venerdì, era stato pubblicato anche il tuo aiuto nella riapertura di un bar di una donna che ha dovuto fare i conti con la criminalità. Sì, sì. Io l'ho aiutata, sono andato lì e abbiamo organizzato questa fiaccolata insieme perché nessuno si salva da solo. Nessuno. Tutti abbiamo bisogno dell'altro, in fondo. E quindi sono andato lì e ho ascoltato questa signora Graziella che gestisce questo bar e quindi con tutte quelle che sono oggi le criticità siamo stati aiutati anche dall'ambulatorio regionale dall'osservatorio per la legalità della regione Lazio ed è stato anche importante quindi anche avere questi riferimenti istituzionali che ci permettono poi anche di poter organizzare la speranza. Come si porta il Vangelo a persone che hanno appunto la vita facile grazie alla criminalità? Noi dobbiamo portare il Vangelo dobbiamo testimoniare il nostro esserci l'oggi di Dio per queste persone non soltanto una volta passi e poi ti dimentichi poi non esistono più allora un sacerdote arrivare lì e prendere un caffè con loro stare con loro ascoltare loro perché hanno le loro famiglie hanno come dire è importante io stavo a Laurentino 38 ai Ponti sono stato anche in una scuola perché mi girano anche le scuole non soltanto di Roma ma anche d'Italia dove portiamo appunto questo messaggio e quindi credo che tutti sono portatori sani di legalità credo nella forza dei battezzati i battezzati sono luce e sale della terra Hai più collezionato tra virgolette successi anime redente oppure più delusioni sinceramente? La verità Dio è stato grande perché ha toccato la vita di tanti ragazzi e tanti ragazzi sono cambiati devo essere sincero qualche volta per esempio ho dovuto fare un funerale per overdose in un ragazzo che in tutti i modi ho cercato di poterlo aiutare ma come dire alla fine Gesù agisce nella libertà dell'uomo Gesù non si impone San Basilio la palestra per la legalità abbiamo visto anche le immagini dell'inaugurazione la tua questo bene confiscato che ti è stato dato perché possa spalancare le porte a chi si sta perdendo Don Antonio Coluccia che altro vuole tirare fuori guarda è la palestra della legalità e io ringrazio Le Fiamme Oro il gruppo sportivo della Polizia di Stato il capo della Polizia di Stato perché questo rappresenta uno sport di prossimità in alcuni quartieri non bisogna soltanto dire che la droga fa male ma bisogna anche fare delle opere ecco perché l'opera Don Giustino si impegna su questo fronte perché in questi territori bisogna portare la cultura della bellezza sono stati fatti tantissimi interventi sia quando c'era il sindaco di Roma l'allora Virginia Raggi sia l'attuale sindaco Gualtieri c'è una continuità ed è giusto che sia una continuità istituzionale da dove le istituzioni devono prendere parte in questi territori e devono portare la cultura della bellezza ossia la giure pulita le strade allora quel ragazzino che scende con la mamma col papà da quelle case popolari possa vedere che quel quartiere è un quartiere come tutti quanti gli altri allora così si cambia così si assapora quello che è il profumo della risurrezione pane e vangelo quindi si possono mettere sulla tavola sulla mensa danno da mangiare realmente io dico sempre quando faccio una battuta a uno dei miei ragazzi il vangelo non ha mai rovinato nessuno Don Antonio se stai ancora un po' con noi io poi mi sposto dall'altra parte dello studio vedi che bellezza c'è continuiamo a raccontarla proprio anche nella vita di una giovanissima atleta guardate con noi grazie grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti c'è tutta la vita possibile in quella vasca ed è quella di Giulia Ghiretti una campionessa lo studio mi ha detto possiamo applaudire sì facciamo grazie campionessa di nuoto paraolimpico una delle glorie di questo paese ma soprattutto una ragazza giovanissima che ha una forza impressionante Giulia una forza non solo perché tu da piccola insomma impari il gusto della competizione diventi una grande sportiva sei una saltatrice sul tappeto e poi dopo perché di mazzate nella vita ne hai prese ma non ti sei scomposta di un po' mio malgrado ti devo portare a quel 4 gennaio 2010 chi c'era in quel momento e chi era Giulia Ghiretti allora Giulia Ghiretti ero una ragazza di 16 anni amante del trampoline elastico della ginnastica dove io ho vissuto per le palestre da quando avevo 4 anni quindi era la mia vita parte della mia quotidianità e durante un allenamento mi sono persa in un salto e mi sono ritrovata sempre sul telo a non sentire più le gambe e da quel momento lì poi c'è stato tutto un cambiamento tutta una riabilitazione per rientrare nella mia quotidianità che per ovvie cose era cambiata quindi senti Giulia tu hai subito la percezione che qualcosa era andato storto subito io non ho mai perso conoscenza e mi sono fatta male che erano le 7 di sera quindi alle 11 ero in sala operatoria quel frangente lì mi ricordo tutto tutto è arrivata l'ambulanza mi hanno immobilizzato subito l'allenatore e qualsiasi vibrazione del telo a me dava fastidio quindi nessuno poteva toccarlo e è arrivata l'ambulanza e mi ricordo anzi il viaggio in ambulanza credo che sia stato il viaggio più lungo che io abbia mai fatto e niente dopo siamo arrivati in ospedale mi ricordo tutti quelli che c'erano perché c'era mio papà che mi era venuto a prendere in palestra mio fratello sì perché era il bello venire a prendere me perché così anche lui poteva saltare poteva giocare e quindi diciamo che io mi sono fatta male l'ultimo minuto dell'allenamento quindi praticamente sono arrivati insieme all'ambulanza Giulia cosa c'è dietro questo sorriso disarmante che io vedo in questo momento che noi vediamo in quella foto bellissima uno dei tuoi tanti momenti di premiazione eccetera come si fa a raccontare anche questo episodio come lo stai facendo tu? fa parte della mia vita sicuramente non ti dico una cosa bella però è una cosa che è successa e fa parte di tutto quello che è Giulia sicuramente credo che mi abbia arricchito sicuramente non sono stata io da sola ma grazie anche a tutta la mia famiglia tutti i miei amici tutte le persone che si sono viste prima e credo che sia questo tu quando ti risvegli fai una domanda brucia pelo a mamma che è la tosta della famiglia e hai il coraggio di chiedere mamma posso posso tornare a fare sport posso tornare a scuola a fare sport mamma ti dà una risposta di quelle che non ammettono di battiti il mio problema era saltare cioè fare sport io volevo saltare e mi ha detto no non salti e non cammini neanche io nel momento in cui mi sono fatta male mi ero resa conto che c'era qualcosa di grave che era successo comunque che non avrei più mosso le gambe poi qualcuno ti diceva però in quel momento lì non so come ma l'avevo capito e dopo sì l'ho chiesta alla mamma e mi ha detto così io non me lo ricordo perché ero ancora un po' addormentata dall'anestesia però si vede che il mio inconscio gli ha proprio fatto questa domanda brucia pelo senti Giulia cominciò la riabilitazione quando esci poi da lì i periodi di lontananza dalla scuola ma tu con una schiettezza vi posso assicurare imbarazzante in certi casi non hai neanche nascosto che qualcuno pensava che tu ci stessi marciando che questa tua condizione di paraplegica ti potesse aiutare che cosa voleva dire che cosa hai provato in quei momenti quando capivi che si sussurrava a scuola e beh quella la promuovono perché tanto sono sedere a hotel allora io ho fatto mi sono fatta male a gennaio quindi ero in seconda superiore non sono rientrata nel secondo semestre e io volevo però rientrare insieme ai miei compagni di classe in terza quindi ho fatto una dad 13 anni fa e lì anche grazie agli insegnanti mia mamma essendo insegnante sapeva come muoversi e quindi anche tutto il consiglio di classe ha deciso di mettersi un po' in piazza perché comunque io avevo il computer in ospedale e seguivo le lezioni a distanza quando potevo e non ero a fare della fisioterapia quindi questo è stato tutto il percorso io me ne sono resa conto più che altro quando sono rientrata in terza perché finché ero a distanza qualcuno veniva a trovarmi poi magari era anche diventata una scusa non vado a scuola perché vado a trovare la Giulia esatto quando sono rientrata in terza allora lì ho capito certe dinamiche della classe che non sono state delle migliori che hanno fatto male sì ha fatto male più male quello più male le persone che l'incidente in sé come si reagisce a quella cattiveria posso chiamarla così come si reagisce non lo so io c'erano delle volte che uscivo dalla classe io ho anche un carattere che accumula accumula e poi scoppio e non va bene neanche questo quindi c'erano delle volte che veramente dovevo uscire dalla classe e scoppiamo a piangere proprio sono tante piccole cose io non mi ricordo neanche un evento in sé ma tante piccole cose probabilmente mi hanno fatto talmente tanto male che io cancello e cosa si fa erano tre anni e tre anni si tira avanti si chiude abbiamo finito la scuola qualcuno qualche compagno ovviamente è rimasto non tutti però insomma si vedono le persone mi dai l'idea di essere una persona estremamente selettiva nel momento in cui la vita ti porta il conto a quel punto si decide poi dove virare sì io ero selettiva prima lo sono diventata ancora di più che cosa trovi che cosa cerchi anche nelle persone una campionessa come te che rischia di essere idolatrata per i suoi meriti sportivi cosa cerca nelle persone la persona perché non sa che cosa cerchi è proprio la verità la persona così com'è se io ti posso stare simpatica ti posso stare antipatica perché comunque sono una persona indipendentemente dalla sedia indipendentemente dal nuoto io sono Giulia quindi ti posso stare simpatico ti posso stare antipatica e Giulia è questa ragazza che ammette di essere molto timida mi fa molto difficile crederlo ma ti credo che addirittura quando si può poi si confonda con il nuoto che diventa questa tua passione perché lo scrivi il nuoto è libertà ed è un corpo che funziona sott'acqua nonostante tutto è un corpo che funziona e io ho deciso di nuotare proprio perché sono scesa dalla sedia e ho capito anche mi ha anche aiutato a capire il mio corpo perché in acqua sei libera sei tu e non hai ausili non hai niente come hai fatto poi a passare da quella persona timida che aveva paura di guardare in faccia anche sugli spalti le persone perché insomma aveva quasi pudore come ha fatto a scrivere e a diventare quella che vedo io di fronte a me oggi perché cosa ti ha spinto anche a scrivere un libro su di te lo spieghi bene allora non è il fatto di conoscere Giulia perché conoscere Giulia uno può interessare o non può interessare poi neanche a me interessa far conoscere Giulia ma è far conoscere quello che c'è stato dietro se può essere d'aiuto a qualcun altro allora questo a me fa più che piacere e se può anche lasciare qualche interrogativo su ti dico i comportamenti forse oppure sulle paure uno magari si è fatto tante paure in realtà basta chiedere perché tutto quello che noi non conosciamo ci fa paura qual è stata la paura più grande di questi anni prima di trovarti perfettamente a tuo agio anche in questa situazione io non mi ricordo paure non mi ricordo paure come fai a non avere paure non lo so non lo so come faccio però credo che sia stato proprio la famiglia gli amici che non mi hanno mai detto di no ma troviamo il modo di fare le cose non mi hanno mai fatto pesare niente e quindi arrivare insieme a fare tutto quello che ho sempre fatto ovvio in un altro modo credo che sia stato questo senti Giulia c'è un passaggio in cui dici io ho sempre creduto poi e sono stata anche abbastanza praticante poi dici proprio spiazzante oggi credo di più anche se pratico di meno credere di più in Dio non prendersela con lui per quello che è successo che vuol dire? è successo non do la colpa a nessuno di questa cosa è probabilmente colpa mia ma neanche perché io mi sono proprio persa quindi non posso dare la colpa a nessuno nessuno ha colpa è successo basta si va avanti si prende quello che c'è quando ti succede qualcosa di grave secondo me hai due strade o ti fermi o vai avanti e a 16 anni non ci sto ferma e tu non solo non ci sei stata ferma arrivi anche poi a decidere di vivere da sola a Milano e lì è un'altra avventura ma soprattutto a tornare alla competizione quando hai capito in vasca in piscina che quell'atleta non era mai morta che anzi avrebbe potuto dare qualcosa qual è stato il click? subito cioè subito ad altri livelli assolutamente no a me quello che mancava durante la riabilitazione ti insegnano a riprendere in mano la tua quotidianità nella mia quotidianità c'era lo sport c'era l'agonismo c'erano le gare io ho sempre visto lo sport come agonismo devo dire la verità e quindi iniziare a nuotare per me era quella libertà che ho ritrovato in vasca e volevo migliorare io sono entrata in piscina nel migliorare me stessa e imparare anche solo arrivare in fondo alla vasca perché non è che fossi capace e da lì migliorando sempre di più sono arrivata a una Paralimpiade quindi non era l'obiettivo ma sono stati frutti del tuo lavoro che poi ti hanno portato ad arrivare a primati straordinari guardate il palmaresse di Giulia Ghiretti vi fa impressione ad avere tanti riconoscimenti ne guardiamo uno ce ne andiamo in pubblicità e poi continuiamo a sognare perché perdonatemi io sto sognando con Giulia Ghiretti guardate ad illuminare finalmente domenica questo pomeriggio c'è una campionessa che il mondo ci invidia Giulia Ghiretti che ho qui di fronte a me campionessa di nuoto paralimpico ma soprattutto una ragazza di una forza straordinaria che è un accidente della vita non ha mutato in nulla anzi se possibile ha potenziato quelle capacità tu oggi sei entrata in polizia sei un ingegnere biomedico ma attenzione mica si ferma dopo i successi dell'ultimo mondiale dell'anno scorso in Portogallo tu sogni Parigi vero Giulia? sì l'obiettivo è Parigi quest'anno ci sarà il mondiale ecco e poi sì Parigi senti Giulia non ti sembra di aver avuto già tantissimo cosa è che ti spinge a continuare a superare quegli ostacoli a mettere l'asticella più avanti e la vita va avanti il tempo va avanti il tempo scorre perché dobbiamo guardarci indietro sicuramente se guardi indietro rifarei tutto e vediamo quello che ci sarà davanti intanto questo tutto sapete di cosa è fatto di queste emozioni guardate qui grazie a tutti grazie a tutti Giulia lo stesso sorriso guarda sei una cosa meravigliosa della fine non dell'inizio è bello perché a un certo punto ti abbiamo visto quasi come pensavi di farcela o hai temuto di non farcela aspetta ti cambio la domanda allora all'inizio quando tu arrivi al blocco di partenza io sono proprio in un altro mondo mi rendo conto che si vedeva anche dalla faccia io so anche con Monica più o meno essendo tutte e due italiane ci conosciamo abbastanza bene io so che nella prima vasca lei è un po' più veloce quindi io so ognuno di noi sa i punti più forti e più deboli dell'avversario e quando sei lì però hai sempre tu sei anche abbastanza spietata con te stessa te lo posso dire perché in questo libro bellissimo sono sempre io ti metti anche in croce da sola ti giudichi da sola dici esattamente dove hai sbagliato ti metti a nudo anche tutti i tuoi limiti mi critico molto esatto assolutamente non ti perdoni niente no devo ogni volta che faccio qualcosa io critico quello che ho fatto ma per cercare di imparare e farlo meglio la prossima volta e che cos'altro devi dimostrare a chi ti ama a chi ti segue a chi ha visto i tuoi risultati mi lo dici io non devo dimostrare niente non ho niente da dimostrare a me stessa a nessuno faccio quello che credo che sia giusto e che mi piace quindi questo i mondiali di Parigi scusa le olimpiadi di Parigi non le mondiali le olimpiadi di Parigi cosa saranno poi un altro punto di arrivo poi ti metti a fare l'ingegnere biomedico e pensate soltanto cosa possa essere la tua maestria nel fare questo io faccio il tifo per te sei entrata in polizia ma io ti auguro che non ti siano tarpate le ali perché questo è importantissimo immagina cosa tu possa fare sì forse ho anche una visione non ti dico diversa ma avendo vissuto certe cose anche solo andando in giro con la carrozzina ma anch'io prima di farmi male certe cose non le sapevo io credo che quando uno vive una situazione si rende molto più conto perché comunque sei in prima persona ma non solo tu anche chi ti circonda perché anche tante persone adesso magari vedono c'è il gradino c'è qualcosa oppure semplicemente sì c'è il gradino ma ho imparato come superarlo e quindi credo che questo sia un valore aggiunto per me ma credo che possa imparare e insegnare a tutti senti Giulia per la tua grinta e per quel tuo sorriso qual è il vero ostacolo questo lo dico anche per chi ci ascolta a casa non lo so mi fai una domanda difficile gli ostacoli sì ci sono ma ce ne sono ogni giorno hai il patentino per il quad perché volevi andare in moto è proprio la moto per abbibontà quella è quella proprio mi manca è la moto hai la macchina hai vissuto da sola anche se adesso sei tornata a casa a Parma sì non è un passo indietro quello no per me no perché sapevo io sono andata a Milano non per vivere a Milano ma per studiare quindi per l'università quindi sicuramente sapevo già quando sono partita che per me sarebbe stato un periodo e da dove vivo in campagna a Milano mi dispiace ma io riferisco a vivere in campagna anche se c'è un po' di nebbia però quella non c'è storia non c'è storia pur mantenendo la tua autonomia ma perché hai questa unità di pronto soccorso così definisci la tua mamma e la tua famiglia beh fondamentali dalla mamma al papà mia sorella mio fratello io credo che senza di loro mancherebbe un bel pezzo di Giulia senti Giulia non tutti hanno la fortuna di riuscire a guardare oltre quando si è malati si guarda solo a se stessi e alla propria infermità che cosa ti senti di dire alla luce di tutto quello che ti è arrivato dalla vita oggi a quelli che invece non riescono ad uscire fuori da quella condizione beh sicuramente un grazie a chi mi ha aiutato a a vivere in questo modo perché non ho un guardare indietro ma un andare avanti e poter vivere e sicuramente tutte le fatiche che ho fatto abbiamo fatto poterle risparmiare a qualcuno è una cosa che a me piace tantissimo a me è capitato una ragazza che voleva iniziare a fare handbike non sapeva come fare perché anche io quando ho iniziato a fare nuoto rispetto a quando a fare ginnastica non è che vai a iscrivere alla società anzi ne hai girati che ne hai girati di allenatori di struttura devi cercare un po' di più e quindi quando questa ragazza ha fatto il primo allenamento e mi scrive ho fatto il primo allenamento non mi sono mai sentita così viva allora io dico va bene io ho fatto il mio e questo qua e tu accetti di scrivere e di metterti a nudo nonostante resti una timida questo è quello che dici tu proprio perché hai detto la mia esperienza non deve essere fine a se stessa non posso tenermela più soltanto io a quelli che oggi puoi dirlo a distanza di 13 anni a quelli che appunto hanno avuto pena per te hanno avuto quasi pietà per te che cosa dici oggi? sono poverini loro ce l'ho io per loro scusate questa non è che uno voglia fare però smettiamola di guardare sempre con quell'occhio di compassione che va bene fino a un certo punto cerchiamo di guardare anche oltre al di là l'uso delle gambe mi sembra quasi secondario per una persona che è riuscita a far allenare la testa e il cuore come te qual è la cosa che quella vecchia vita non ti può più ridare? Giulia la velocità la moto di la verità la moto anche quella quella sì ma tu se potessi se ci fosse un domani no no ma c'è chi fa in moto comunque assolutamente sì e tu perché non lo fai? con calma adesso che buona andiamo piano andiamo piano senti Giulia sogni non posso non chiederteli al di là delle medaglie che devi vincere per noi e per tutti quelli che leggeranno il tuo libro qual è ancora il sogno nel cassetto di Giulia Gretti? ma sogno nel cassetto non ce n'è uno in particolare sicuramente adesso ci sono gli obiettivi come hai detto bene delle gare e quindi quello che vedrà quello che sarà si vedrà lo apriremo con il cassetto e vediamo quello che esce tra l'altro regia vi avviso io resto qua perché ci sto molto comoda così poi in paradiso ci andiamo lo stesso ma stando da qui io ti auguro anche permettimi qualcosa di più profondo come gli affetti e una famiglia perché chi ha avuto una famiglia come la tua può soltanto formarsene un'altra altrettanto bella sei stata luce Giulia non perdere questo sorriso perché sia una cosa incantevole grazie e mi hai fatto anche un gran bene a me personalmente ce lo siamo detto grazie tra di noi noi ce ne andiamo a Lurda con questo sorriso questi sono assaggi di cielo assaggi di paradiso ce ne andiamo vi ringrazio per essere stati con noi se volete tornate qui la prossima settimana finalmente domenica se Dio vuole c'è sempre grazie di essere stati con noi e grazie a Giulia Ghiretti grazie